La giornata per la lotta internazionale Io mi trovo, grazie anche al lavoro che faccio alla radio, ad andare nei locali, a vedere i giovani, a incontrare i giovani, a parlare anche con loro di varie tematiche ed è molto interessante parlare con i ragazzi che girano per i locali perché c'è in giro una gioventù molto sveglia, molto attenta, però probabilmente arrivano poche informazioni a questi ragazzi che non erano ragazzi come noi negli anni Ottanta, per cui eravamo stati bombardati di informazioni riguardo a questo tipo di tematica. Oggi probabilmente se ne parla meno. Guardiamo i dati, i dati che servono per capire un attimo, come dire, diffondersi del problema. Conosci il tuo stato e lo slogan che è stato scelto per la giornata mondiale di lotta all'AIDS. Intanto diciamo subito che di sieropositività e di AIDS oggi non si muore più. Ci sono chiaramente una serie di cure che però vanno fatte nei tempi giusti, per cui è molto importante sottoporsi al test che viene fatto, lo vogliamo sempre ricordare, in maniera totalmente anonima e personale. Viene comunicato alla persona attraverso medici, psicologi. C'è tanta serietà intorno a questo tipo di argomento e quindi conosci il tuo stato è importante perché conosci il tuo stato può salvare la vita a te stesso e alle persone che ci sono intorno. Mentre i numeri in Italia sono abbastanza imbarazzanti. Sentite qua, in Italia attualmente ci sono tra le 125.000 e le 130.000 persone che convivono con l'HIV, prevalentemente maschi. Sebbene larga parte di queste persone sia stata già diagnosticata, ce ne sono tra 12.000 e 18.000 che non hanno ancora scoperto la propria positività. Nonostante un terzo di queste, e cioè 6.000, abbia un'infezione da HIV già avanzata. Voi pensate 18.000 persone che hanno questa infezione, che non sanno di averla e che possono avere dei rapporti sessuali non protetti con altrettante persone, se non di più, come si può diffondere a macchia d'olio questa infezione, questo problema, come può essere stesso alla vita di tante persone che magari invece possono in qualche modo, come dire, difendersi da questa cosa. Come ci si difende da questa cosa? C'è un solo modo, è inutile girarci intorno. Il preservativo che andrebbe distribuito gratuitamente nelle scuole, che andrebbe dato ai ragazzi dai 14 anni, 15 anni in poi, perché adesso non stiamo lì a girarci troppo intorno a 14 anni, eravamo bambini quando ero bambino io e stiamo parlando del paleozoico. Oggi gli input che arrivano dall'esterno, da internet alla televisione, a quello che succede, in giro è assolutamente evidente che i ragazzini di 14 anni hanno una cognizione del sesso diversa da quella che si aveva 20-30 anni fa. Quindi vanno informati in maniera assolutamente precoce. Ragazzi, non so se ce ne sono a quest'ora di mattina, se siete andati a ballare ieri sera, avete fatto tardi, a quest'ora state dormendo, ma l'unico modo per difendervi dalle malattie sessualmente trasmissibili è il preservativo. I preservativi sono fighi, i preservativi sono belli, non sono da sfigati, li fanno pure a frutta. Quindi compratevi preservativi, io lo so che costano, ma a parte della paghetta, spendetela in preservativi. Costano perché in questo paese purtroppo si spendono i soldi nelle cose inutili e non succede come succede in Inghilterra, come succede in Francia, come succede in Germania, in Spagna, dove i preservativi li regalano nei locali, li regalano per la strada, ci sono campagne informative continue, purtroppo in Italia questo non c'è. E allora date da babbo e da mamma senza vergogna, tanto loro quando erano ragazzi hanno fatto la stessa cosa, quindi state tranquilli e dite babbo io ho bisogno dei preservativi, me li compri tu, camma fa, ok? Grazie.